Leggo un articolo titolato semplicemente che con un poco di zucchero il dolore può passare. Mi incuriosisco e vedo che l'autore è Luciano Bassani. Scopro essere un notissimo medico fisiatra milanese e che quel libro mette in bella mostra l'essere il suo uno sperimentatore di pratiche e terapie alternative. In queste quante storie, lo facciamo vedere, il libro c'è il racconto di tanti episodi professionali trattati con ironia e autoironia, con tra l'altro delle bellissime anche vignette che il tutto illustra. Ma a me interessava a quel punto di conoscere chi c'è dietro queste quante storie. E infatti oggi questo vi propongo, la conoscenza diretta di Luciano Bassani, medico fisiatra ma non soltanto. Dopo la sigla. E allora facciamo la diretta conoscenza del dottor Luciano Bassani. Benvenuto nella nostra pubblicazione, dottor Bassani. Buongiorno. Buonasera, grazie di avermi invitato alla vostra trasmissione. Allora, io faccio rivedere ancora una volta subito il libro, quante storie e le permetto subito di dire di che cosa tratta questo suo libro. Poi parleremo di Luciano Bassani. Allora, cosa racconta questo suo libro? Allora, questo libro, come dice il titolo, racconta tante storie, che sono delle storie in massima parte inerenti alla mia pratica medica. Sono i casi che mi hanno più incuriosito, che mi hanno lasciato un ricordo di casi un po' magari particolari, a volte anche divertenti, a volte anche magari tristi. Tutte storie che comunque sottengono delle domande su cos'è la medicina, su cos'è curare i pazienti. E questo è un libro che naturalmente è divulgativo, non parla solo di pazienti, ma anche comunque di persone che ho conosciuto, e anche, a dire la verità, anche dei cani, perché sono le storie dei due cagnolini che avevo e che ho ricordato, su cui ho appunto fatto dei racconti. Ho letto, ho letto quei racconti. Senta, dottor Bassani, quello che a me interessa adesso è far conoscere appunto lei e il suo intendere la medicina. Lei si presenta o anche viene presentato come medico curatore che nell'ore notturne si diletta di scrittura e l'abbiamo capito. Ma lei è medico chirurgo, specialista in medicina, sto leggendo, fisica e di riabilitazione. Era anche presidente di una società italiana di proloterapia, vicepresidente dell'Associazione Italiana di Neuroauricoloterapia. Lo è ancora, credo, presidente di queste altre società. Ma senta, lei come si presenterebbe? E la facciamo più breve. Ma io mi presento come un curatore del dolore cronico. Mi interessa il dolore cronico e mi interessa aiutare la gente che soffre e cercare di farlo in modo umano, perché credo che la medicina oggi, spesso e volentieri, non sia una medicina umana. E quindi la mia ricerca mi ha sempre portato a scoprire delle tecniche che sono delle tecniche di trattamento che non fanno parte delle terapie alternative, perché di alternativo non c'è niente. Fa parte delle terapie integrate nel mio modo di approcciare la gente e di cercare di aiutarla nelle loro sofferenze. I due argomenti di cui lei ha citato prima, la proloterapia e l'auricoloterapia, sono due delle mie frecce, ne ho anche altre, ma diciamo sono tra le più importanti, con cui io cerco di aiutare le persone che quotidianamente vengono da me per cercare aiuto. E allora quelle due frecce quali bersagli colpiscono e che strumenti sono, dottor Bassani? Allora, partendo dalla proloterapia, che come dice dalla parola si vince, che vuol dire proliferare, è la madre delle terapie rigenerative. Cosa si intende questo? Si cerca di rigenerare e la rigenerazione nell'organismo umano, che è fatto bene e quindi bisogna sfruttare le capacità intrinseche, è quella dell'infiammazione. Quindi lo scopo di questa cura è di creare delle infiammazioni localizzate, perché l'infiammazione è vetrice di rigenerazione, cioè di fattori di crescita, di collagene e quindi della rigenerazione dei tessuti. In poche parole, oggi come oggi, la medicina moderna è una medicina che tende a essere un po' soppressiva. Noi prendiamo antinfiammatori per qualunque cosa, quando a volte non ce ne sarebbe bisogno. E l'antinfiammatorio blocca ogni tipo di rigenerazione. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a pazienti cronici, che hanno male alla schiena, che hanno male al gomito, hanno male alla spalla, spesso e volentieri sono pazienti cronicizzati, che già la tendenza dell'umano è andare in fibrosi e cronicizzare, ma gli antinfiammatori accelerano questo processo e rendono l'organismo incapace di rigenerarsi. Quindi questa terapia che è a base di infiltrazione di glucosio epertonico, destrosio, ha proprio lo scopo di creare delle microinfiammazioni che creano un nuovo tessuto. Ed ecco l'utilizzo di questa tecnica che ha un ventaglio di possibilità molto ampia, cioè agisce su quello che è il dolore cronico benigno. Ecco, e per quale motivo dunque, visto che abbiamo messo quel titolo, lei dichiara che basta un poco di zucchero e il dolore va via? Perché proprio perché il glucosio che utilizziamo è lo zucchero, è lo zucchero non tanto come zucchero, ma agisce perché è una sostanza ipertonica, irritante, ma negli Stati Uniti se ne usano anche altre. Si usa l'acido fenico, si usa la glicerina, si usa l'olio di fegato di merlusso, ma diciamo che la mia scuola che nasce nel Wisconsin, da cui io ho imparato, da cui io ho frequentato i corsi e poi ho portato in Italia, e proprio agisce, utilizza il destrosio, perché non ha effetti collaterali e in concentrazioni alte, che significa 15 o anche 25%, crea delle infiammazioni localizzate ed ecco che il poco zucchero aiuta a guarire. Certo, quella è l'altra seconda freccia, quella neuroauricoloterapia. La neuroauricoloterapia viene chiamata anche agopuntura auricolare e nulla ha a che fare con l'agopuntura cinese. Nasce dalla scoperta che fu fatta nel secolo scorso da un medico che si chiamava Paul Noget, che si rese conto come l'orecchio avesse la forma di un feto. Se noi vediamo un orecchio, c'è il lobo che rappresenta la testa e la parte sopra che sarebbe la colonna vertebrale, gli organi interni. In pratica è messo come un feto, c'è testa in giù e le gambe in su. E un po' se andiamo nel cervello, esiste la stessa rappresentazione che si chiama munculus di Penfield. Ebbene, andando a pungere i punti nell'orecchio, si va a pungere i punti corrispondenti al cervello. Quindi l'auriculoterapia tramite il cervello va a riequilibrare, a dare dei messaggi di guarigione. Quindi è una tecnica utile per trattare un grande ventaglio di patologie, che possono essere quelle muscoloscheletriche, ma non solo, anche viscerali e anche del sistema nervoso. Mi pare molto chiaro. Senta, dottor Bassani, da un altro suo articolo di giornale, vede che io la sto seguendo da molto tempo. Molto preparato, vedo, sì. Meno male. Lei dice, dieta sana e osteopata salvano le articolazioni. Ora con le articolazioni abbiamo tutti a che fare. Perché una dieta sana e l'osteotapa insieme? Allora, l'osteopata si intende chi si occupa di terapia manuale e gli osteopati, quelli bravi, non sono tanti, sono capaci di ridare mobilità alle articolazioni. Faccio una premessa. Una cosa importante che precede l'osteopatia è la postura. È molto importante anche fare il controllo della postura, perché la postura è il modo in cui noi stiamo in piedi ed è gestito dai recettori periferici, che sono gli occhi, la masticazione, le cicatrici anche, che a volte cambiano la postura, e naturalmente il piede. Quindi bisogna prendere tutto, fare un controllo della postura, correggere questi recettori e a quel punto intervenire con l'osteopatia per ridare un equilibrio funzionale a queste articolazioni. Quindi osteopatia e postura sono una cosa importante per curare e anche prevenire le patologie della colonna o delle articolazioni periferiche. L'alimentazione è importante, perché l'alimentazione di oggi è un'alimentazione pro-infiammatoria, ma un'infiammazione non quella che vogliamo creare noi con la proloterapia, ma quella che viene chiamata l'inflammosoma, cioè l'infiammazione a basso livello che insorge proprio spesso per il tipo di alimentazione sbagliata che è spesso a carico di zuccheri, che purtroppo i zuccheri raffinati sono la base dell'alimentazione della maggior parte della popolazione, acidi grassi saturi, quindi carni, che naturalmente vanno a creare questa infiammazione di fondo che è devastante per tutto il corpo, per le arterie, ma specialmente anche per tutto il sistema tonico-posturale, cioè per le articolazioni. Quindi avere un'articolazione sana, una dieta sana, con integratori giusti, che abbiano un'azione antiossidante, che agiscono sui radicali liberi, che proprio questa infiammazione crea, questa infiammazione dovuta al cibo, quindi il glutatione per esempio, o per esempio la vitamina D, fondamentale per il benessere, quindi una buona alimentazione, una buona integrazione, anche con degli acidi grassi saturi, faccio un esempio l'olio di pesce, l'omega 3 per esempio, che sono fondamentali per il benessere, sono quelle cose che alla fine non sono molto costose e che possono aiutare a mantenere una buona vita, un buon equilibrio, naturalmente questo abbinato a una giusta attività fisica. Certo, poi parleremo dell'attività fisica, ma vorrei tornare sul suo concetto della prevenzione, perché lei ha detto un paio di parole magiche che rimbalzano nell'ascolto di chi è alla visione di questa nostra pubblicazione. ha parlato di prevenzione, per prevenire le patologie degenerative, quindi non più il tema della postura, ma siamo sull'argine della degenerazione, del processo di degenerazione, credo sia giusto dire, o quantomeno rallentarne insomma il decorso. Che cosa consiglia, dottor Bassani? No, è proprio quello che le dicevo, perché la prima cosa è fare un controllo della postura, perché è proprio quella che va a rallentare l'usura, perché delle articolazioni, perché è come se noi abbiamo un'auto che non ha una buona convergenza, lentamente si consumano le gomme e poi man mano questo prende gli ammortizzatori e prende tutto il sistema meccanico dell'auto, è la stessa cosa. Quindi avere una buona riprogrammazione della postura, che significa usare delle solette neurologiche che hanno dei piccolissimi spessori che riescono a cambiare proprio il modo di stare in piedi, correggere la vista, correggere la masticazione. Noi abbiamo un grandissimo lavoro in studio qui, in collaborazione proprio con un gnatologo, perché a volte i dolori provengono proprio da una cattiva masticazione. Quindi se ci sono questi recettori sfunzionanti, le articolazioni degenerano. Ecco, questa cosa, dottor Bassani, mi perdoni, i primi sintomi che avvertono, che si avvertono quando le articolazioni, diciamo che non sono più normofunzionanti, mi perdoni il termine banale, ma per far capire. I primi sintomi sono dei dolori sporadici che spesso interessano anche il sistema dei legamenti, perché i legamenti lavorano male e quindi si ha quello che si chiama un dolore d'anchilosi, cioè il dolore che si ha nei primi movimenti, poi magari scaldandosi le cose migliorano. Questo è già un segno di degenerazione, dell'articolazione che comprende anche i legamenti. Scricchioli, ma non sono sostanziali, diciamo scroci articolari, ma specialmente l'instabilità delle articolazioni che man mano si instaura, che danno questo senso di non stabilità nel passo o nella stazione retta. Quindi doloretti vari che peggiorano stando a riposo, oppure il dolore quando da seduti ci si alza, sono anche quelli dei segni di sofferenza dei legamenti. Poi quando le cose procedono, incominciano a peggiorare anche durante i movimenti, quindi se all'inizio la camminata magari è meno dolorante, peggiorando le articolazioni, faccio per dire delle ginocchia, si incomincia a avere male a camminare e quindi l'autonomia diventa più ridotta e man mano è un processo che va avanti. Certo. Senta, ha parlato prima dell'attività fisica, l'ho interrotta perché mi riservavo la domanda che le faccio adesso, perché ho letto che lei raccomanda, dice importante, evitare tutte quelle attività sportive o lavorative ad alto impatto sulle articolazioni che prevedono movimenti ripetitivi e stressanti e poi parla appunto dell'attività fisica. Anche questo credo che sia fondamentale e importante anche per chi avesse voglia di iniziarla un'attività fisica per esempio per ridurre il peso corporeo. Allora, sicuramente le attività stressanti non sono consigliabili, ma specialmente a chi comincia a una certa età e il che già è portatore di patologie degenerative. Sicuramente io, allora io sono una persona sportiva, comincio a avere la mia età e quindi non voglio neanche essere quello che predica bene, arazzola male, perché di fatto è un po' così, ma credo che esista anche un vantaggio, lo sport fa bene anche alla testa, quindi io è vero che alcuni sport come il golf per esempio spesso possono creare dei problemi alle ginocchia, ai gomiti, alla schiena, ma quello che io dico non è che dico di non giocare, dico di fare una buona preparazione prima, di fare dello stretching, di fare un piccolo rinforzo muscolare, fare dei piccoli programmi diciamo di preallenamento in modo da arrivare non proprio impreparati. È chiaro che se uno vuole dimagrire, non ha delle grandi vellità sportive, non li direi di correre, ma le direi per esempio di fare la camminata veloce, che è una buona soluzione anche per il sistema cardiovascolare che bisogna ricordarsi anche lui invecchia come le articolazioni. Il nuoto, il nuoto sì, è un'attività sportiva buona, anche se si perde di vista un fattore fondamentale. Il nuoto è uno sport che non è nell'ambiente dove noi viviamo di solito, perché siamo con una gravità diversa. Quindi si può suggerirlo, ma non è che sia questa panacea come spesso viene raccontato. Proprio per il peso gravitazionale lei ci sta spiegando, che nessuno pensa in genere. Nessuno pensa, lì cambia totalmente. Non si hanno le stimolazioni recettoriali, per esempio ai piedi, che ha il terreno. Quindi a un ragazzino, se devo consigliargli, gli consiglio di fare l'atletica piuttosto che fare il nuoto, perché ha degli stimoli gravitazionali, proprio cittivi si chiamano, cioè tipo il piede, ha dei sensori molto raffinati e che lo stimolo del terreno dà con maggiore importanza rispetto a quello che potrebbe dare l'acqua. Li do un aneddoto. Gli astronauti, quando vanno nello spazio, sono senza gravità e li aumenta in modo totale l'osteoporosi. Infatti si era trovato un sistema che era quello di mettere delle staffe sotto i piedi in modo da mantenere uno stimolo propositivo sotto le piante e sembrava che questo avesse proprio dei vantaggi proprio tutto il sistema muscoloscletico anche sull'osteoporosi. Senta, dottor Bassani, dico la verità, ho intervistato un grande astronauta, ho intervistato anche un medico spaziale e ho capito che da grande non voglio assolutamente fare l'astronauta, mi creda. Le pongo l'ultima domanda mentre faccio rivedere ancora il suo libro che consiglio a tutti perché è un libro straordinariamente divertente, non so come ho fatto a recuperarlo ma l'ho recuperato, ironico, autoironico, straordinario, questo quante storie. Ma le pongo l'ultima domanda che è questa. Allora, vediamo se il dottor Bassani ci rientra in scena, ecco, non mi manchi alla fine perché l'ultima domanda è la seguente. Mi fa capire che la conoscenza del nostro corpo per prevenire tutto, anche spiacevoli incidenti, è la cosa più importante che noi dovremmo fare su noi stessi guardandosi ogni tanto allo specchio? Allora, di sicuro è molto importante osservarsi, guardare le proprie livello delle spalle, guardare anche se si è dritti o stolti perché purtroppo con l'invecchiamento esistono anche delle tendenze proprio a curvarsi, quindi osservarsi e devo dire che la conoscenza dell'anatomia non è compito del paziente ma sarebbe compito dei medici perché l'anatomia bisogna conoscerla e colgo l'occasione appunto che lei parla dei miei racconti io faccio capire come a volte il medico deve essere quello di una volta che va a indagare come il detective e si indaga con la clinica io questo lo ribadisco sempre vedere gli esami vedere una risonanza non dà le risposte sufficienti il medico deve sapere interrogare il paziente e io dal mio libro ho voluto proprio raccontare questo come sia un puzzle una malattia e un cruciverba e sapere andare a interrogare quindi per questo conoscersi e farsi conoscere ho raccontato un episodio pronto? Sì? Eccomi volevo solo far vedere volevo solo far rivedere il suo libro prego prego ho raccontato anche l'episodio di un paziente che entra nel mio studio e io dico una volta il medico cioè il medico deve fare come facevano e fanno ancora i maniscalchi sentire il rumore dello zoccolo del cavallo quando quando diciamo si muove perché dal rumore del passo quindi dal paziente che entra nello studio si può fare la prima diagnosi e poi guardare sentire la sudorazione delle mani guardare il viso come diceva lei guardare appunto quelle che sono le simmetrie corporee e le asimmetrie corporee perché già da questo si può avere una diagnosi su cui si lavora poi allora io avevo intuito che sarebbe stato un gran bell'incontro il nostro e mi confermo nel fatto che sono felice di aver fatto la sua conoscenza aver mostrato il suo libro ma la minaccio anche del fatto che se ho bisogno di un poco di ironia quando si parla di problemi di problemi degenerativi del nostro corpo so a chi rivolgermi le ringrazio molto è stato molto cortese le auguro buon lavoro grazie mille a presto si sistemi i computer mi raccomando che la prossima volta avremo le bande tutte a posto un saluto arrivederci grazie a tutti